Kadeeja Minawi, 34 anni, nazionalità sudanese. Entrata in Italia tre anni fa ed è stata messa in regola da Giulio Guidi, coniugata con Abdul Al-Kibir, suo connazionale. Ti interessa porre il marito? Allora, Abdul Al-Kibir, in Italia da cinque anni, regolare porre lui. E lavora per... L'avvocato Salviati. Sì, ma l'ha licenziato pochi giorni fa, guarda. Cerca di capire se hanno un nuovo datore di lavoro o se hanno lasciato il paese. Va bene, commissario. E fammi una stampa delle due foto. Va bene. Mazza sei in squadra. No, capitano. E come faccio? C'è il gomito del tassista. Del tassista? Del tennista, vorrei dire. Mica, devi strisciare, devi pedalare, mazza. Subito, subito. Comandi, maresciao. Hanno trovato un cadavere sul credo del fiume. Dove? A Umbertide. Valla a dire al capitano, io ho cominciato ad andare. Signor, sì. Conosigliamo alla tua fidanzata? Lucia, anni ventinove. L'età non mi interessa, mi interessa il nome. Lucia. A Lucia, la donna più bella che ci sia. Bellissimo. Beh, io vado avanti, procedo, perché parliamo di cose importanti adesso. Metti giù il caffè. Ricordi, c'è da tutto quanto che nel caffè che facciamo noi c'è il surrogato. Aspetta, no. Che facciamo noi? Che fate voi? Che fa mamma? Perché io non lo faremo. A questo fatto che c'è il campano e i palpata, e i quarti, e i finanziari, e i brigadieri, e i fascisti.